Benvenuti a questa puntata di Sporta Medicina. Chi mi ha seguito nelle puntate precedenti ha ascoltato e visto un paio di trasmissioni in cui ho parlato di trattamento con le cellule staminali. È una nuova frontiera della medicina e della chirurgia ortopedica e i campi di applicazione in ortopedia sono molto vasti. Vi ho accennato al trattamento dei difetti cartilagine e delle condropatie e quindi parliamo di ginocchio, parliamo di spalla, caviglia, anca, sia per una situazione post-traumatica o per migliorare i risultati di un intervento chirurgico, ad esempio il crociato anteriore, oppure per aiutare la rigenerazione tendinea nelle tendinopatie o nelle ricostruzioni di lesioni tendine o di lesioni muscolari. Vi porto adesso un'indicazione di un'assoluta novità e cioè la possibilità di trattare le patologie della colonna vertebrale, prevalentemente l'ernia del disco, con un'iniezione, un'infiltrazione di cellule staminali. Già io tanti anni, questa è una colonna vertebrale, utilizzo per le patologie della colonna vertebrale e per le patologie del disco, che non sempre sono ernie ma possono essere discopatie, la patologia vertebrale è estremamente complessa e la patologia è variabilissima. Utilizzo un trattamento con una miscela di ossigeno ozono, è una cosa che faccio da tantissimi anni, con ottimi risultati, che ha indicazioni molto allargate, molto vaste, dalle patologie più semplici a quelle più complicate ed è eseguita in due possibili maniere. L'infiltrazione si può fare attraverso i muscoli paravertebrali con un ago, la siringa entramuscolare normale, che porta l'ossigeno ozono in vicinanza del disco e per un'azione proprio chimica l'ossigeno ozono va nelle costituenti del disco e ne riduce il volume e soprattutto la compressione. Oppure possiamo fare sempre con una miscela di ossigeno ozono, cioè una miscela di gas che viene prelevato da una bombola di ossigeno con una apparecchiatura che collega la bombola ad un sistema di miscelazione e con delle concentrazioni che sono stabilite da, ad esempio, dalla società italiana di ossigeno ozono terapia, quindi non è una terapia sperimentale, è una terapia consolidata da tanti anni. L'ossigeno ozono può essere iniettato nell'interno del disco, c'è una maniera molto semplice e sotto controllo radiologico di entrare nel disco, che è questo ad esempio, con un ago e di iniettare questa miscela, tecnica che viene usata regolarmente da me da tanti anni, anche all'istituto Bellaria, nella neuroradiologia del Bellaria e viene fatta regolarmente. Un superamento di questo ossigeno ozono è quello di utilizzare, come dicevo, cellule mesenchimali, quindi cellule staminali indifferenziate e in questo seguo una grande struttura di Atlanta che ha iniziato a fare questo trattamento nel 2015. Vedete una diapositiva della struttura e del nome. Questa struttura nel 2015 ha iniziato a trattare l'ernia del disco con determinate indicazioni, ovviamente in questo caso è difficile dare a voi, in base al dolore che uno può avere per il mal di schiena o la sciatica, un'indicazione precisa perché viene data solo sulla risonanza. Principalmente si usa nelle protrusioni discali quando non c'è una vera ernia espulsa, ad esempio in questa immagine voi potete vedere questo nocciolino rosso che viene nel modello indica quando un'ernia esce e va nel forame a schiacciare la radice nervosa. In questo caso l'indicazione non c'è e qui l'indicazione migliore è la chirurgia, ma nell'enorme numero di ernie del disco, di patologie discali, di lombosciatalgie, cioè di sciatiche, non c'è questa situazione di ernia fuoriuscita, ma una situazione di incompressione delle radici, cioè queste sono le radici nervose dello sciatico che portano dolore, portano invalidità, impossibilità lavorativa e così via e queste radici vengono compresse e quindi bisogna decomprimerle, si possono decomprimere chirurgicamente, ma più semplicemente questo lavoro che ho visto in questo centro di Atlanta utilizza una semplice iniezione, quindi la tecnica è una tecnica ambulatoriale, occorre fare un prelievo, prevalentemente questa ricerca è stata fatta con l'uso del tessuto adiposo e quindi il tessuto adiposo che può servire anche per il ginocchio, come dicevo per l'anca, per altre articolazioni, il tessuto viene prelevato con l'elipostruzione, quindi con un'aspirazione di un paio di siringhe di tessuto adiposo, questo tessuto viene processato semplicemente e lavato in maniera da eliminare i residui che non servono e si utilizzano solo cellule staminali che vengono isolate ma in grandissima quantità. Il paziente viene operato, ma non è un intervento, in anestesia locale e con un repere assolutamente sicuro, cioè sotto controllo radiologico, io vado con un ago, semplicemente, questa è una penna ma è una cosa molto più sottile, nell'interno del disco con un ago semplice e inietto in più punti le cellule che ho prelevato dallo stesso paziente. Questo porta ad un miglioramento dei sintomi ma soprattutto ad un miglioramento proprio della qualità del disco, che porta come ad una possibilità di una vita migliore anche nel futuro, quindi serve sia per la patologia dolorosa in atto, sia per il futuro. Rapidamente vi faccio vedere alcune diapositive in cui alcuni casi visti ad Atlanta, il 20% dei pazienti hanno avuto un miglioramento nei primi 5-7 giorni, i pazienti parlo che sono molto addolorati e il dolore può durare un po' alcuni mesi ma cala gradualmente in maniera da avere un risultato molto rapido ma duraturo e nessuna complicazione, non infezioni, non ematomi, non lesioni muscolari e non cicatrici perché è un forellino, un ago sottile. Ad esempio pazienti trattati con preventivi interventi, ecco qui vediamo un esempio, questa signora di 52 anni ha avuto un miglioramento successivo con un intervento come vedete, quindi è un ago sottile che entra e lavora semplicemente iniettando e a distanza di due settimane era estremamente migliorata e a sei settimane era assolutamente senza dolore. In altri esempi una persona già operata per un trattamento discale, questa è la diapositiva del suo disco trattata con questo sistema, ha avuto un miglioramento al controllo a sei settimane già del 70%, quindi siamo in una nuova frontiera della medicina, è una medicina ora rigenerativa e non più distruttiva. Grazie.